Boh, è Syndra Jungle Ragazzi, gioca Syndra Jungle, è forte Cioè, la gioco pure io Sì? Sì Non scherzo, è forte Cioè, se superi la fase iniziale Dove è l'unico punto debole Che ti possono counter-junglare O mettere in difficoltà Cleara veloce Ha un sacco di danni E ti fa pure 1v1 Ah, ma è Ving Jungle Nevermind So much better So much fun Ma poi, più che altro ora in alto Penso che l'avversario non dippi Per formare male Camminerà verso la torre il top Mi sa, giusto? Ah, tippato, tippato Ok, allora arrivo Non so quanta kg in potenziale abbiamo Però ora prende la forma Mi sa che... Non so se vogliamo aspettare la forma o no Io andrei subito Ok Ok Ha fallato Ok Ha faggappato Abbastanza Hai detto che ha tippato, no? Eh, sì, sì Anche volendo proprio Io mi rendo conto che ogni volta che max ho tipo 3 punti sulla... Ah, shit! Ok, non è male in realtà Ho preso le stack Mi hanno tirato pure l'ignite addosso Il mio add carry non mi ha minimamente aiutato Quindi tutto sommato non è andata male Sono morto Ah, è un match è brutto in top Mi tiro abbastanza dritto Devo solamente cercare di scalare Sopra più Sentirà dopo vincolo Ho preso la trasformazione Buono, buono Ci sono Non ho la R però Al salto? Dovrebbe Ok, nice Buono, buono Pusciamo Ok Oddio Dov'è finita la mia wave? Upsi Hai visto anche tu A me mi ha laggato un attimo Ah, sì? Chat Ha laggata la stream, per caso? No, io ho sbattuto gli occhi e giuro era sparita Ah, sì, mi conferma dalla chat che abbiamo laggato C'è stato un lag... Non lo so Improvviso non ho visto più niente nello schermo Ho frizzato tutto Non è che te la volevo rubare, eh? No, 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 ma lo so, lo so Non fare mai queste cose Io sono good guy Che sono callaki però, eh No, è proprio il momento sbagliato laggato, sorry A me si è proprio spento... È proprio morto il PC Ma, raga, deve essere stato il server della Riot Mannaggia Ma la live è up ancora? Sì, sì, è tornata subito up Arrivo, arrivo Ah, ok, bene, bene Arrivo alla R In 4, 3 Ah Ok Ok È andata bene, è andata bene Torna Eh, ho laggato anch'io ora, mi so Ci sono Vabbè, sono proprio i server, allora Tanco Thank you Lucky Stavolta ho fatto solo la W Sono stato furbo, hai visto? I need it, I need it right I need it right Ah, hanno appena fatto il Drake Il avversario, ok Volevo solo il cannone Buono Marta V Sì, credo che sì Tu con tipo Jace, Gnar e Nidalee prendi la stack in base alla forma che hanno in quel momento Oh, sì C'era Nard da quell'altro lato Let's go, Nagnar Ok, ci sono Ok Non rispettano Going Gianna Eh, è stupato Ha flashato, Ophelius è super buona sta cosa Pulsefire, Gragas Eh, skin di Gragas Non escono troppo La prossima skin di Gragas che faranno sarà una C'era una pink qua G2 Gragas Occhio, attento che si vengono a chiudere in due con Nard Flash Nard Peccato Bot si sta facendo tutto il mio team, Simba Perfetto Ma perché la sua run Perché stanno trollando e vogliono che finisca il game Che loro non dicono Sto giocando male O sto messo male Lasciami far carriare dal team E gioca col mio team E tipo Non sto vincendo Allora dobbiamo perdere tutti i bastardi E ovviamente Non capisco Cioè, non vuoi giocare il gioco Non gioca Puoi tranquillamente scegliere di non startare il game Non hai per forza bisogno Non ha flash Ophelius Ma ha l'arma giusta Oh Vabbè 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 Cioè, come stiamo proprio intando Senna Sinceramente Sì, no Il punto è proprio quello Cioè, non è che sta giocando Sta avendo un bad game O qualcosa Sta proprio impegnandosi per perderlo È quello che apprezzo Arrivo da dietro di loro Mirato Visto Mamma mia Che salto ha fatto Mira Gianna O Aphelios O qualcuno Ok, nevermind Non mira nessuno C'è un drago C'è un drago C'è un drago C'è un drago Com'è successo? Non devo flashare Sbagliato Dai, smettite di orientare Per favore Che poi è counterabile Cioè, basta Fightare in una lane Lontano dai muri E non fightare in giù Non è facile No, sì, sì Non è facile Ma è l'unica cosa Che potresti fare Non sono d'accordo Devo stare giocato Ma vabbè Oh, che dura La vita da top laner Sto pushando Ragazzi Dovrebbe morire Sì Eh Ma non fa la Egnar Non capisco È confusissimo Sto Egnar È troppo forte Troppo forte Che comunque Raga Veramente È disgustoso È abbastanza Shit L'ho preso un call Dimmi che non hai preso il blu Ti prego Ah Ok Va bene Ok, ok, ok C'è il nostro C'è il nostro C'è il nostro No, però Perché questo champion L'unica cosa che ha È mana, angri e spack È abbastanza Spammando lei Vabbè, però tanto hai il Non ti basta il Come si chiama? Presence of mind Devo però Devo però uccidere qualcuno Vabbè 500 di mana In più Comunque non si buttano via Hai 1500 di mana Senza oggetti Più o meno forte di Soraka Soraka è un altro kit Però sono entrambi Disgustosamente Forti Tenterai Ah Veramente Tu si vai così Vabbè Sì, sicuro Ah, si sono Ah, ok GG Sì, sicuro La forma rossa È Più utile Al team Senza un bravo dubbio Ma era a metà vita Ma la R Fa danno Extra Perché sono Shadow Assassin Quindi Metà vita Non ti dà Vorrei ringraziare La nostra botlin Per aver provato Il loro meglio A giocare questa partita Veramente Giving up Io non capisco più Come mi dà i punti Cioè Boh No, non è Pog Perché Mi avrebbe dovuto Dar di più Di più 20 Di solito Mi dava più 21 Tipo con i D1 Non lo sto più capendo Di danni Oh, gli cittadini Hanno fatto un fottio Di danni Grazie a tutti